manifestazione contro il governo turco organizzato dalle associazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali. La protesta è molto semplice, in Turchia ci sono stati due colpi di Stato, il primo è fallito, il secondo è riuscito ed è quello di Erdogan che sta instaurando un regime fascista dentro la Turchia e purando lo Stato sul versante della magistratura, degli insegnanti e reprimendo tutti i giornalisti democratici che pensano con la loro testa e dicono la verità. Di fronte a questo non si può star zitti e chiediamo al governo italiano di ritirare l'ambasciatore dalla Turchia di rompere i rapporti economici, i trattati militari con la Turchia perché è inaccettabile che la Turchia solo perché è membro della Nato possa fare quello che voglia, sputare sulla democrazia e sulle libertà civili mentre l'Europa non dice niente. Quindi l'Italia, il governo italiano ritira l'ambasciatore e bisogna boicottare la Turchia a partire dalla rottura dei trattati economici. Grazie!